Ciao ragazzi, sono tutti i miei video di Gisina Poi con Multicast Nel corso episodio siamo arrivati fin qui E abbiamo scoperto che questa isola disabitata E' un pochino abitata Cavolo Vieni a vedere un po' qua Mmmmm E' un po' profondo Sta per arrivare la notte Dobbiamo fare un rifugio Comunque si, sarà l'isola esplorata Però ovviamente No, notte Però ovviamente siccome c'è C'è del legno vuol dire che si sono arrivati in pochi Fin qui Si sono arrivate poche persone Che aspetta è? Ah, è laggiù Vabbè No, io devo fare solo la vedetta Albero Lo so, eh Qua Da quella parte c'è anche un albero Eccolo là Mmm Perché aspetta è finito adesso Ragazzi, è una roba assurda C'è una pianura E' altissima sta pianura Guardate, quello sarebbe il livello del mare Qui invece c'è Una pianura Ed è altissima Guarda che ce ne ho anch'io gli alberi Io Ho Già Alberi Ce l'ho sempre avuti fin dall'inizio Oddio Altri Vieni qua Qua c'è stato qualcuno di sicuro Chiunque esso sia Oltre che adesso di sicuro non c'è più Però Ho fatto un casino di cose Uh, mi sembra di aver visto giocatore Perché Guardate lì Quella è terra arata C'è anche della cobblestone Vieni qua Ok, comunque Io adesso qua Devo fare qualcosa Del tipo nonno torce Ah sì Ora sì Uh Ok Ah, non smetti di buggarti così Eeeh Vieni Sotto Sotto Vieni sotto Dov'è La Tu Più un altro La Così che la vede meglio E basta questo bug Allora che sveglia è andata? Ah qui, ok Ah no, basta Beh, eccoci qua Con sto maledettissimo bug Fiu cose Qua non credo più qualcuno ci troverà Umido segnale coordinato Perché sennò qua ci muoio Ok, guardate Dopotutto non siamo andati poi così lontani Però va bene La stessa cosa Dopotutto siamo andati Oh, wow, wow Siamo andati via dalla terra E siamo ritornati sulla terra Perché ragazzi È la stessa isola, eh Non è che siamo andati in un'altra parte Ok, la prima cosa che ci servirà qua Eeeh Eeeh Adesso devo fare la coltivazione Io Con ste cose qui Ok Adesso c'è un crafting E Una fornace Ecco Qui Allora Ci metto detto Questo E questo Adesso Faccio la coltivazione Basta Stupido bug Ma ragazzi In una maniera assurda Non so perché Lug Eh? Che dice? Non me l'hai data Ah, è piccolo No, l'ho capito Tieni Ah, se l'ha fatta anche da sola Non l'avevo vista Oddio, basta Per favore Dai Non so Oh Che succede? Ero In Un Muro Fantastico Basta Ma ce l'ha che è pazzesco Vado fuori Sono rotto Ah, fietra Basta, dai Ok Ah Vado a vedere Qualcosa di là No, le torce non ce ne voglio Di speccarle Qua non c'è un cavolo E qua c'è un qualcosa Non c'è un cavolo Una coltivazione Se questa può essere chiamata coltivazione Uno zombie Un bel po' di lag Come sempre Il lag non manca mai E muori Ecco Proprio Proprio Adesso Ah, wow, wow Cos'è? Cos'è? Ah, mi stavo morendo Ho fatto l'accendino Perché Cosa sta succedendo? Sta vomitando Va bene Basta Ehm, che va c'è di qua? Oltre sti bug Li O G A Piantati Giù Ok No, questi non li ho ancora piantati Ora vado Dov'è la mia cosa? Oh Oh Ah No, no, no Non voglio Non posso morire adesso Qua giù in fondo No 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 No, non mi rinasce neppure No Sto nuotando Non ci posso credere C'è una barca Qui Nel mezzo dell'oceano Che fortuna No, non è una barca Vedo l'isola Ah No Sto affagando Vai Non avete idea Di quello che ho fatto In questi dieci minuti Sono passati già dieci minuti No Ci si mette pure il lag Dai Sì Vai Vai Sì Vai ancora Ce la puoi fare Le mie cose Wow La mia armatura completa di ferro La mia spadina Le patate Le carote Quelle poi le ho coltivate Quindi Sto già morendo di fame Mischio Lill Non si può attraversare mezzo oceano E si muore già Mamma mia Che chettinata Scherzo È logico Uh semi La cosa me ne faccio di questi semi Io non ho visto il brodo primordiale O quello che hai detto a te Una pecola Crash Crash Le mie cose No Sono sparite Sono sparite Questo sarebbe spam Questo sarebbe spam Questo sarebbe spam Non avevo pure di diamanti Non è vero E adesso muoio Di fame Sono qui Eh Ecco Ecco Come Come si può chiedere lo staff Di darti le cose Per favore Mi serve qualcosa Non ho più niente Guarda La sala della terra è questo Ecco Quanto è? Tre? Solo? Poco Vabbè Dove sono arrivato io? Da qui Ok Uddio Basta Con sto balacro No Ok Vabbè E adesso? C'è una mucca C'è una mucca C'è una mucca Eh però Ho perso tutto Oh qua c'è Un aberello Qualcuno potrebbe essere stato qui Di recente No Vabbè ragazzi Questo era Multicraft Noi ci vediamo In prossimo episodio